buongiorno amiche buongiorno amici questo secondo video della settimana perché normalmente avrete notato in questi ultimi mesi che ne faccio due a settimana salvo eccezioni questo secondo video di questa settimana lo voglio dedicare ad un ringraziamento quindi non un argomento in sé per sé molto così profondo però comunque una profondità ce l'ha comunque anche per il ragionamento che andrò a fare ovvero come ho già pubblicato nella community per iscritto l'altro giorno abbiamo superato in questo canale le donne rispetto agli uomini che seguono i miei video che seguono che sono iscritte nel senso che quasi il 52 per cento di chi guarda questo canale è una donna dalle statistiche di youtube ovviamente ma comunque penso che siano e spero abbastanza attendibili contro il 48 per cento degli uomini questo come ho messo anche per iscritto nella community team ma volevo fare un breve video di riflessione per me è un traguardo molto importante perché come al solito senza peli sulla lingua schiettamente come cerco di fare nel mio stile la realtà dei fatti è che gli uomini su youtube su youtube o su qualsiasi piattaforma seguono tendenzialmente tendenzialmente fissatevi questo avverbio perché ci sono sempre le lodevoli eccezioni seguono tendenzialmente delle youtuber donne specie se sono carine molto spesso solamente in funzione di questa carineria estetica di queste youtuber poi attenzione voglio ben precisare ci sono delle youtuber donne sia carine che in gamba ma ci sono senza mezzi termini tante youtuber che hanno dei canali che prendono 2000 3000 visualizzazioni o anche di più con il più o meno il numero di iscritti che ho io quindi comunque canali medio piccoli che però prendono 2000 3000 visualizzazioni e come ho fatto la battuta che ovviamente è una battuta ironica nella community per iscritto sono canali di youtuber carine che però ti spiegano che se tu metti dell'acqua sotto un fuoco quest'acqua diventa calda ovviamente la mia è una metafora ironica per dire che io qualche video le ho guardate di queste persone risottolineo e ribadisco ci sono anche delle youtuber carine e gradevoli che fanno dei video gradevoli e hanno tutto il merito di prendersi migliaia di vesili visualizzazioni ma ce ne sono tante invece così questo perché perché l'uomo il maschio specie quello italiano nell'ottanta per cento dei casi è uno sfigato del cazzo è un morto di figa che c'ha una fame di figa frustrata abissale e che quindi appena vede una ragazza graziosa la segue se tornando a bomba all'inizio di questo video se tu hai un canale dove magari non fai neanche tantissime visualizzazioni come il mio mediamente siamo sulle 300 400 visualizzazioni mai il 52 per cento di donne che ti seguono questo vuol dire che la donna a differenza dell'uomo mediamente anche questo mediamente sottolineo non è una disperata come il maschio e quindi se ti segue una donna difficilmente ti segue perché è una sfigata morta di cazzo ti segue perché poi ci sono anche quelle ma in una minima percentuale rispetto agli uomini ti segue perché tutto lo meriti e quindi da fatemi dare questa botta di narcisismo l'aver visto che su questo mio canale ci sono più donne che mi seguono rispetto agli uomini è un fatto di grande orgoglio per me perché ripeto la realtà dei fatti è quella che ho annunciato con le dovute eccezioni ci sono degli uomini infatti altresì ho ringraziato e lo faccio anche qua in questo video gli uomini che seguono questo mio canale perché ritengo che il 90 per cento di loro non dico il cento per cento perché potrebbe sempre esserci uno che è omosessuale che ha rapato di me o anche se non è rapato comunque mi segue perché è attirato da me sessualmente ma penso che sia una minimissima percentuale ecco gli uomini che mi seguono in questo mio canale penso che non gli diventi duro vedendo questa barba e sentendo questo vocione per cui per me questa è una cosa di grande orgoglio anche perché confrontandomi in privato con altri miei amici youtuber amici amici un parolone conoscenti youtuber mediamente ci siamo sempre scambiati le statistiche mi hanno detto che nel loro canale le donne sono sul 10 20 massimo 30 per cento del loro pubblico perché la donna è più selettiva la donna è meno mortacciona la donna è meno bavosa poi chi segue questo mio canale sa benissimo che io non le col culo alle donne perché ho fatto pure dei video non da maschilista assolutamente io non sono maschilista io sono un umanista cioè ritengo che ci siano statisticamente dei difetti statisticamente che appartengono di più al genere maschile e dei difetti che statisticamente con le dovute eccezioni riguardano di più il genere femminile quindi io non ho mai leccato il culo in nessun video alle donne però questa è la realtà dei fatti se se qualcuno di voi riesce a dimostrarmi io ho detto l'ottanta per cento per essere generoso che l'ottanta per cento degli uomini soprattutto italiani non è un disperato morto di figa me lo venga a dimostrare per me questa è la realtà dei fatti quindi chiudo qui sta super cazzola che ho già fatto quasi sette minuti questo è il video di oggi se vi va iscrivetevi al canale uomini donne alieni o qualsiasi cosa che voi siate se vi va mettete un commento seguitemi iscrivete mi accendete la campanellina le solite stronzate che vi dico sempre un saluto un bacio a tutti